Qual è l'immagine che ci si fa vedendo Gould alla tastiera e vedendo come si approccia al pianoforte? E per me è più interessante quasi quando suona Beethoven da questo punto di vista, oppure quando suona certe trascrizioni per pianoforte, è che lui pensa alla tastiera non come uno strumento, o al pianoforte insomma, non come uno strumento in sé, quindi una musica scritta per quello strumento, ma guarda la tastiera come il luogo dove lui riproduce la musica che ha in testa, quindi pensa alla tastiera come se fosse un'orchestra, insomma, se all'interno della tastiera trovasse tutte le gambe timbriche, espressive di tutti gli strumenti, ha in testa la musica, tutti i suoni, e quindi pensa a ogni singola nota che suona, sempre come se appartenesse a un particolare strumento, facesse parte di una particolare linea melodica, quindi ha una visione, diciamo, orchestrale della musica che suona, mai nessuna nota è lasciata a se stessa, tutto è pensato, controllato, messo in maniera da risultare una parte di un insieme con un peso specifico particolare. Gould in qualche modo parte da un'idea della musica, lui traduce la sua visione della musica in suoni. In una interpretazione musicale si pongono, per esempio, dei problemi. Può essere legittimo, per esempio, non tener conto di una precisa indicazione del compositore? Possiamo aggiungere o togliere delle note? È lecito, in un'incisione, montare sequenze sonore tratte da registrazioni differenti, oppure cancellare note false, cioè praticare una falsificazione che crea? A queste domande, per esempio, Gould dà delle risposte affermative e la sua concezione della musica subordina interamente la tecnica all'etica, quindi la tecnica in funzione a questa modalità etica che lui si pone. E quali sono i suoi principi etici con cui approccia la musica? 1. Che le dita vengono dopo il pensiero Gli aspetti tattili devono restare di gran lunga in secondo piano rispetto al problema essenziale e il problema essenziale è quello di dare un senso alla musica. Tutto deve essere perfettamente leggibile, chiaro nel discorso, come lui l'ha in testa e quindi chi l'ascolta deve riuscire a percepire esattamente il discorso come lui lo pensa e lo ha in testa, anche se non è filologicamente o esattamente quello che il compositore ha creato, ma nello stesso tempo è quello che lui ha, attraverso la sua meditazione, ripensato in una logica che però è congrua, è la sua logica, il suo pensiero musicale. La musica allora viene prima del pianoforte, terzo concetto etico. La musica non è la produzione di corpi sonori né di stati psicologici, ma è la ricerca di una perfezione spirituale. La musica tende all'incorporeità. Per suonare bene bisogna metterci l'anima. Ecco allora che non basta più la tecnica, non basta più il virtuosismo. Ci vuole il pensiero, l'anima, quell'anima unitaria di chi suona che prende la musica, il singolo autore, il singolo brano musicale, e lo trasforma in una sua concezione più globale, la musica che si esprime nei singoli brani, nelle singole opere particolari. E queste singole opere vengono riportate poi a quest'anima e quest'anima poi riesce a tradurle una volta fatte pensiero attraverso le dita che vengono sempre dopo il pensiero e attraverso la tastiera, insomma, in questo caso, che comunque è strumento, non è fine a se stessa, non è il pianoforte, il fine ultimo, ma il pianoforte come strumento, come qualcosa che ti permette di esprimere quell'idea. E quindi Gould gioca a creare un legame dialettico tra l'immagine mentale della musica e la sua realizzazione sonora, senza però dissidio o frattura. La frattura sarebbe tra quella fisicità sonora e la cerebralità immateriale della musica, concepita come due momenti separati in competizione l'una con l'altra, tra le caratteristiche fisiche dello specifico strumento musicale o dei vari tipi di strumento, come il pianoforte, e la musica puramente cerebrale, in quanto qualcosa che esiste nell'immaginazione o sull'aspartito. Qualunque cosa la musica sia, Gould apparentemente pensa che sia un fatto più mentale che fisico, più una cognizione che una sensazione. Cioè possibilità che esista una forma puramente mentale della musica svincolata nell'estetica del pianista dalla sua esistenza reale. Quindi la musica può esistere già nella mente. È quello che succede quando chi è particolarmente dotato non ha bisogno dello strumento, delle note per sentire, per vivere il mondo sonoro. Gli basta prendere la partitura, guardare la partitura e già sente le note in testa, sa, sente come vanno suonate, già le sente, già vibrano dentro di lui, senza bisogno del suono come mediatore e dello strumento che produce il suono. L'analisi che Gould fa della musica, dei brani che suona, avvengono già lontano dallo strumento, avvengono direttamente nella partitura. Quindi con quel distacco che gli consente di studiare meglio una per una, tutte le linee armoniche e le singole voci del contrapunto e che quindi gli permette di memorizzare la partitura in tutte le sue sezioni. E questo poi si traduce nella modalità di eseguire. E quindi poi la ricerca nell'esecuzione di un suono attinente a questo proposito di limpidezza strutturale. La ricerca di questo suono è il polo dialettico opposto all'immagine mentale della musica. La ricerca di questo suono poi è il modo di fissare nell'atto espressivo l'immagine mentale. è l'unico modo per trovare una corrispondenza tra l'immagine mentale e poi quello che viene percepito dall'ascoltatore. E in questo modo quindi si fa viva la presenza di qualcosa che è nobile che era stato prima escluso cioè il suono la qualità del suono che deve mediare rendere possibile l'espressione di questa immagine mentale. Good quindi non può che aspirare alla sacralità alla trascendenza all'abbandono del comune mondo dei mortali per risalire come a un mondo delle idee mondo delle idee che poi trova la sua concretizzazione nella ricerca di questo suono. assolve un ruolo nel momento in cui perviene alla massima trascendenza consentita ovvero quando si allontana il più possibile dalla materialità della fisicità sonora quasi negandola sostanzialmente quasi negandola la funzione di mediatore tra la partitura e l'ascoltatore perché Good ha invece un'idea del tutto diversa del rapporto con l'ascoltatore ascoltatore che è chiamato a diventare il vero protagonista dell'esperienza musicale all'ascoltatore egli propone una chiarezza formidabile di elaborazione intellettuale anche quando si pone in termini estremistici o diventa quasi eccentrico il suo è un sistema estetico di rigorosa coerenza interna cioè tutto ritorna a una sua coerenza a lui a un mondo musicale prettamente suo e allora gli si adatta il concetto di unitotalità nel senso di una persona che mette nell'arte tutta intera se stessa finendo così per specificare il suo fare individuale la sua posizione differenziale e unica rispetto al fare comune da cui comunque proviene la sua esperienza di uomo e quindi la sua concezione dell'arte ha un fondamento morale una moralità che non può essere ridotta al solo prototipo dell'artista puritano ma va indirizzata all'agire politico di Gould che è urgentemente connesso ai problemi storici dell'epoca all'intuizione che la musica stia lentamente perdendo la sua centralità nella vita di tutti e si stia degradando insieme a un imbarbarimento generale dell'orecchio umano e in tal senso tra le tante speranze utopiche della sua avventura c'è anche quella di una ricostruzione dell'autorità del musicista dopo che tanto esibizionismo e tanta competizione hanno trasformato l'intellettuale pianista in uno degli ormai innumerevoli attori sulla scena del consumismo e in questo senso Gould ha sempre rigorosamente unito la teoria alla pratica ha sempre verificato quei principi teorici di cui si nutriva la sua estetica attraverso una pratica che ne sapesse veicolare la forza ideale senza che quest'ultima rimanesse chiusa all'interno di una prigione dorata nel processo di trasformazione del materiale musicale il suono si arricchisce del lavoro umano l'oggettivazione sonora rappresenta in Gould quella forma della pratica che influenza tutta la sua produzione di interprete è il momento in cui l'immagine mentale si fa carne e si colloca in una determinazione concreta che l'oggettiva la rende specifica perfetto equilibrio che in Gould raggiungono la forma e il contenuto questo anche nella scelta del repertorio mai sbilanciato sull'innovazione formale né sul puro contenutismo ha una presa di posizione radicale nei confronti della riproducibilità tecnica dell'arte di cui il musicista si fa paladino non senza dimostrarne le contraddizioni interne quel che Gould combatte è da un lato la posizione narcisistica esibizionistica autolesionistica del concertista la visione romantica e listiana del recital come manifestazione diabolica di potenza individuale e dall'altro egli non vede di buon occhio la posizione stessa dell'ascoltatore incline a ribaltare la sua condizione di subalternità artistica imposta dalla divisione dei compiti e dunque portato a rendere sadico e feticistico il suo rapporto con l'esecutore Gould sente la falsità oggettiva di qualsiasi recital ogni esecutore per espellere al meglio il proprio narcisismo demoniaco è portato a modificare il messaggio estetico dell'opera che sta interpretando perché è condizionato da una serie di fattori esterni che nulla hanno a che vedere con una resa filologicamente e acusticamente consona al brano insomma adattarsi alla situazione del momento il concerto pubblico per non parlare del concerto con orchestra esemplifica sul palco un'idea di competizione tra solista e complesso orchestrale tipicamente classico romantica si fonda pertanto su una relazione subdola che mette fra parentesi il contenuto sonoro focalizzando al contrario l'esperienza dell'ascoltatore sul soggetto esecutore il primo è reso passivo dalla sua posizione di subalternità effettiva dall'impossibilità ovvero di poter appropriarsi di un ruolo nella cura e recezione del messaggio musicale ed estetico il secondo spettacolarizza l'arte per piegarla a un desiderio tutto individuale e profondamente esibizionistico quindi non esistendo una dialettica tra esecutore e ascoltatore il concerto pubblico è il luogo in cui si realizza la conservazione il luogo in cui l'industria culturale realizza il suo progetto di annichilimento delle potenzialità critiche dell'arte c'è la sostituzione completa della capacità di pensare l'esperienza estetica come forma di interrogazione del mondo e invece viene riversata l'attenzione sull'asservimento del tempo libero al semplice divertimento Gould allora rende urgente la necessità politica di scardinare la conservazione proietta socialmente la falsa relazione pubblica del concerto e rende palese quanto la subalternità dell'ascoltatore aumenti in virtù A del processo di spettacolarizzazione consumistica della performance B del progressivo allontanamento della musica dalla formazione culturale e civile degli individui se gli ascoltatori sono sempre meno capaci di comprendere la musica il concerto pubblico istituzionalizza questa ignoranza imposta e amministrata perché concepisce il pubblico come mero apparato ricettivo di un'occasione sociale mirata alla conservazione dei rapporti inoltre il potenziale sovversivo della musica viene così assorbito e ridotto a sterile cerimoniale Gould vuol restituire all'ascoltatore un ruolo chiave nell'interpretazione strappandolo dalla falsa socialità del concerto pubblico e costringendolo a un rapporto diretto individuale non individualistico intimo con l'esecuzione proposta e dunque con la partitura lavorando sul testo musicale più e più volte senza la necessità di un'esecuzione pubblica condizionata da fattori esterni l'esecutore acquisisce nuovamente la sua funzione di analisi e interpretazione della partitura esplicando con correttezza e precisione filologiche il messaggio estetico dell'opera in questione e quindi da un segno di un vivere diverso e non competitivo tra gli uomini il rafforzamento del rapporto tra interprete e pubblico e l'investimento di quest'ultimo nella creazione del messaggio estetico postula un ripristino dell'autorevolezza del primo termine in quanto depositario di quella scienza filologica che sola può garantire una corretta interpretazione da offrire al destinatario il modo di essere di Gould musicista isolato è necessario al raggiungimento di una prospettiva quanto più sociale e socializzata allora per Gould la questione della fedeltà al testo è piuttosto un modo per intendere la necessità di creare una interpretazione plausibile e innovativa strutturalmente impeccabile e predisposta ad un ascolto pedagogico non esiste alcuna perdita di artisticità o di umanità nel praticare l'arte di montare le esecuzioni evitando l'occasionalità del suono o al peggio i comuni errori digitali al carattere sacrale e trascendente dell'arte Gould pone una manualità e una concretezza tali da sorreggerlo nel compito di restituire all'ascoltatore un prodotto frutto sì di una conoscenza specializzata ma proprio per questo ha aperto la discussione è uno dei pochi pianisti dotati di un suono proprio riconoscibile e distinguibile dagli altri ma recherà con sé il dono della chiarezza e il sigillo della totalità il fine di una simile estetica è la presa di posizione contro l'illogicità dei prodotti culturali della società dei consumi è il recupero della razionalità in un'epoca di crisi del senso anche il montaggio non si pone come presupposto estetico ma semplicemente come tecnica in grado di produrre una totalità Gould vuole che l'ascoltatore realizzi una ricezione che sia sì strutturale analitica che agisca cioè come comprensione costruttivistica dell'opera ma nello stesso tempo si riveli attenta all'interpretazione del senso perché senza quest'ultima verrebbe disperso il suo significato organico e totale e allora con una sintesi quanto mai incisiva lui offre il modo di ovviare a una prassi anti-organica del montaggio utilizzando di quest'ultimo il potenziale demistificatorio e pertanto realizza la condizione necessaria a una possibile sintesi tra procedimenti formali ed ermeneutici anche nell'opera vanguardistica l'emancipazione del singolo elemento non raggiunge mai un distacco completo dalla totalità dell'opera stessa abbandonando lo statuto dell'interprete come unico depositario della pratica interpretativa e manomessa la visione dell'arte come settore specializzato di una piccola frangia di fortunati il musicista allontana da sé lo spettro della divisione capitalistica del lavoro si riappropria di una sorta di umanesimo critico e pluridisciplinare condivide con il pubblico l'utopia di una comprensione democratica del prodotto estetico l'interprete costretto tra il compositore e il pubblico è dopo tutto qualcuno che dispone di una conoscenza parcellizzata questa conoscenza si applica alla realizzazione di simboli sonori notati diventerà dunque del tutto naturale nonché inevitabile che presto o tardi l'interprete il direttore artistico e l'ingegnere del suono finiscano per confondersi in una sola persona ciò che viene meno nell'epoca della riproducibilità tecnica è l'aura dell'opera d'arte la tecnica della riproduzione sottrae il prodotto all'ambito della tradizione moltiplicando la riproduzione essa pone al posto di un evento tecnico una serie quantitativa di eventi e permettendo alla riproduzione di venire incontro a colui che ne fruisce nella sua particolare situazione attualizza il prodotto entrambi i processi portano a un violento rivolgimento che investe ciò che viene tramandato a un rivolgimento della tradizione che è l'altra faccia della crisi attuale e dell'attuale rinnovamento dell'umanità e si sono strettamente legati ai movimenti di massa dei giorni nostri Gould guarda la tecnica in un modo del tutto antiestetizzante come risorsa in grado di smascherare il grado estremo di falsità della visione idealistica dell'arte piegandola al ruolo di artefice di un innovativo e rivoluzionario rapporto tra interprete e pubblico intuisce cioè quanto nefasta possa essere qualsiasi teoria o azione culturale che sacralizzi la tecnica e in ciò si misura ancora una volta la sua abissale distanza dall'avanguardia l'arte è per Gould sempre e comunque un prodotto umano a nulla valgono le pretese idealistiche di volerla imprigionare nelle terminologie astrate e astoriche della metafisica artistica quella di Gould è una metafisica ovvero una visione dell'arte che ritorna sempre sulla fisicità del suono perché vuole parlare al terreno al concreto al vissuto il suo messaggio estetico si serve delle armi della demistificazione culturale e della forza contrastiva della negazione riporta l'attenzione dell'ascoltatore alla fatticità dell'esperienza sonora Gould non sopporta l'idea che la storia della musica consista in una serie di vette e di abissi piuttosto il pianista dovrebbe esemplificare attraverso le sue scelte una propria filosofia della storia musicale scrivere la controstoria della musica mediante l'interpretazione scegliendo cioè un punto di vista alternativo anche le scelte dei compositori ai quali attinge si spiegano con il suo antistoricismo e il suo antipianismo Gould che voleva essere musicista completo e svincolato da un solo strumento è stato uno dei pochi pianisti a incidere sul clavicembalo e sull'organo non attribuiva al pianoforte quella prevalenza che il romanticismo gli aveva accordato ugualmente riteneva illegittime le accuse dei puristi di fronte a un Bach eseguito su strumenti moderni in fondo Gould ragionava proprio come il grande compositore di Eisenach che sul finire della sua vita scrisse opere senza indicare quale strumento dovesse eseguirle preferisce proporre al pianoforte la ricchezza orchestrale del contrapunto wagneriano perché rifiuta la musica espressamente scritta per il suo strumento concepisce la trascrizione come una parziale ricostruzione del brano sottolineando in essa il momento creativo e attualizzante egli ricrea le linee del contrapunto su un unico strumento capace di evidenziarne la struttura e l'ossatura e quindi il pianoforte nell'intento di Gould perde la sua specificità ed entra in metamorfosi vi riconosce la capacità di demistificare la linearità protagonistica di alcuni strumenti dell'orchestra attribuendo al contrario un ruolo parimente dignitoso a tutte le voci rifiuta Gould la caratterizzazione individualistica del pianoforte come protagonista assoluto del virtuosismo romantico e del pianista come depositario di una forza demoniaca travalica la figura del pianista di un'orchestra